Continua a far parlare di sé il corno dell'artista Lello Esposito, collocato dal sindaco Pio del Gaudio davanti alla reggia di Caserta, ed oggetto di polemiche negli ultimi giorni. Stamane protesta clamorosa degli studenti casertani. I ragazzi di alcune scuole superiori che hanno scioperato hanno raggiunto l'opera installata in piazza Carlo III davanti alla maestosa reggia vanvitelliana, tenendo un'assemblea. Ed hanno esposto uno striscione alla base del corno rosso con la scritta «Questo corno è uno scuorno», un modo per esprimere tutto il disappunto per la scelta dell'amministrazione comunale che tanto sta facendo discutere. L'opera infatti è stata collocata senza il parere della sovrintendenza che ha intimato al sindaco di toglierla dall'ingresso del monumento per posizionarla almeno ai lati della piazza. Il sindaco del Gaudio, dal canto suo, ha spiegato di aver incontrato il ministro Brai e di aver accolto il suo personale appello allo spostamento del corno. Lo sposteremo, ha detto del Gaudio, o lo venderemo e nel secondo caso, con il ricavato, finanzieremo opere a sostegno della reggia o della città.